Sequestrata dai finanzieri di Vallo della Lucania, un'officina meccanica abusiva con sede a Perito, in un capannone agricolo. Il gestore dell'attività esercitava senza partita IVA ed era sprovvisto delle autorizzazioni necessarie. Le fiamme gialle hanno sequestrato la strumentazione e le attrezzature e avviato le indagini per ricostruire il giro di affari, sfuggito alla tassazione. Sono in corso verifiche ulteriori per stabilire il danno ambientale derivante dallo stoccaggio dei prodotti lavorati.